we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite registro questo video verso le 11 di ieri quindi non so se è stata finalmente annunciata la patch 14.10 ma tutto quello che voglio dirvi riguarderà il nuovo evento super te loial l'arrivo del nuovo starter pack l'arrivo di un nuovo bundle che in realtà tanto nuovo non è di nuovo delle news per quanto riguarda apple apple verso apple versus fortnite insomma ragazzi tante cose ma prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che è un argomento davvero velocissimo ma super interessante questo lo riconoscete senz'altro ragazzi il furgone di reboot è stato scoperto da poco poco che epic games ha fatto una modifica silenziosa al furgone di reboot provate a guardare adesso il tempo di ricarica del furgone da quando lo utilizzate a quando lo potete riutilizzare prima erano 120 secondi adesso solo 60 una modifica veramente notevole che velocizza tantissimo la possibilità appunto di rebuttare i vostri compagni di squadra o se giocate in duo il vostro teammate quindi tanta roba è meglio saperlo ragazzi sfruttatelo perché 60 secondi sono pochissimi andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi e arriva un post direttamente un tweet dalla pagina di fortney dove from los angeles to party royal fortnight presents spotlight concert series is here c'è un nuovo concerto catch dominic fike kick off the serious live on the main stage on settembre 12 il 12 settembre ragazzi arriverà questo simpatico ragazzino che si chiama dominic fike famosissimo rapper famosissimo rapper che ha fatto canzoni a livello di rollerblade free nights e addirittura chicken tenders quindi parliamo di roba notevole scherzi a parte molto conosciuto ora italiana quello che ci interessa sapere a noi il 12 settembre alle ore 23 sarà in diretta avremo ovviamente poi le repliche il 13 settembre alle 5 del mattino e lo stesso giorno anche alle 19 di sera per l'occasione verranno proposte due skin la prima e nuova la seconda l'abbiamo già vista intanto leggiamo le news che dicono primo spettacolo dominic fike per il debutto di serie di concerti spotlight il cantante rapper compositore dominic fike è pronto a dominare il palco con le hit del suo acclamato lp di debutto what could possibly go wrong le performance di fike arriveranno in diretta nel gioco dal nostro rivoluzionario palco spotlight di los angeles con tre spettacoli il 13 settembre ovviamente li potrete vedere nel party royal sul main stage è davvero scontata come cosa finalmente arriva la skin per l'evento la ragazza con gli occhiali viola e tutta bella colorata ma tornerà anche il chicken tender appunto come vi anticipavo che prende anche ovviamente dal nome uno dei suoi singoli quindi ragazzi un nuovo concerto tanta roba sono sicuro scherzi a parte che ci sarà un sacco da divertirsi e mi raccomando non mancate al concerto e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ieri pomeriggio su nintendo switch era già disponibile l'acquisto del fortnite samurai scrapper pack il nuovo bundle che include salva al mondo come vedete il samurai salva al mondo due ticket se non sbaglio quelli neri lì che sono una roba troppo fis bellissima non so se posso dirlo perché sto registrando una roba molto fi che che serve per prendere e tirare fuori gli eroi dal registro su un cavolo e 1000 v bucks quindi ragazzi al prezzo di 15 e 99 tra l'altro voglio farvi velocemente vedere come sarà in game questo outfit è bello mi piace mi piace veramente veramente carino non non si è ben capito perché gli abbiano stampato sulla corazza un simbolo di stop né perché abbiano deciso di utilizzare delle targhe da metterli come copertura del collo a questo povero samurai un po sfigati allo il backpack va a riprendere molto quello del muscia ma invece la variante è senza il suo elmetto è veramente bella anche perché è la prima skin che utilizza questo taglio di capelli quindi 16 euro dovrebbe costare ragazzi fortnite nuovo samurai scrapper pack andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vi anticipavo a inizio video c'è una novità per quello che riguarda il grande e la grande guerra tra virgolette tra epic games e apple per tutti quelli che non sanno cosa succedendo o vogliono rimanere aggiornati due cose velocissime ho fatto dei video quindi potete guardarli per capire bene tutto il 28 stiamo aspettando la sentenza finale della corte che dirà per l'ultima volta se fortnite potrà essere rimesso sullo store di apple vi ricordo sempre che anche se la corte dicesse no non va bene non potete tornare perché state violando il regolamento di apple apple è sempre disponibile a riprendere come gioco da mettere nel suo store fortnite a patto ovviamente che il prezzo dei v bucks torni normale o comunque che le transazioni fatte dagli utenti garantiscano il 30 per cento dei guadagni a apple ma andiamo a vedere un attimo l'ultima informazione che dice apple rincara la dose nello scontro con epic games la casa di videogiochi che ha creato il blockbuster fortnite chiedendo ora la restituzione dei fondi che secondo il gigante informatico sarebbero stati indebitamente percepiti aggirando le regole dell'apple store e in un documento depositato presso un tribunale della california la casa dell'iphone lancia nuove accuse a epic anche se si dipinge come una versione moderna di impresa robin hood in realtà epic è semplicemente un'azienda multimiliardaria che non vuole pagare nulla per gli enormi benefici che derivano dall'apple store ha affermato la società lo scontro è esploso in piena estate quando epic ha rilasciato un aggiornamento del suo sparatutto multiplayer che consentiva di effettuare acquisti scontati diretti aggirando le commesse dell'apple store apple ha reagito dopo alcuni giorni estromettendo il popolare gioco dai suoi sistemi misura contro cui epic ha fatto ricorso ora rilancia sulla diatriba nei tribunali lamentando violazioni contrattuali per parte sua epic sostiene che apple impedisce la concorrenza di mercato e punta un in un giunzione che la costringa a ripristinare la possibilità di utilizzare il gioco sui dispositivi noi qua ne abbiamo già parlato ampiamente se io sono d'accordo su una cosa se tutti devono pagare perché stai sfruttando comunque un canale che appunto l'apple store allora anche tu fortnite devi pagare se quelle sono le regole e non ci si può fare niente o tutti o nessuno comunque ragazzi stiamo aspettando di saperne qualcosa in più andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché queste skin sicuramente non vi sono familiari parliamo di kuroumura e di rasor che sono ottenibili nel di salva al mondo giocando però a battle breakers un videogioco gratuito sempre sviluppato da epic games che se raggiungete il livello 5 e il livello 25 verrete ovviamente dopo aver linkato il vostro accanto ma è semplicissimo lo potete fare direttamente dal gioco ve lo fa fare lui automaticamente otterrete per salva al mondo queste due skin perché ve le faccio vedere ragazzi perché ieri battle breakers ha twittato questa nuova immagine non sappiamo bene se si tratti di un'altra skin o di qualcosa che entrerà nell'armadietto del battle royale barra di salva al mondo staremo a vedere ovviamente ma sicuramente c'entra con fortnite perché vediamo benissimo chiaramente che quello è un lama quindi appena saprò qualcosa lo saprete anche voi e chiudo velocemente il video ragazzi ricordandovi che è disponibile molto probabilmente da ieri o comunque sarà disponibile oggi se non ricordo male per tutti worldwide il dark le fraction pack ragazzi di nuovo torna uno dei bundle più belli secondo me perché è veramente tanta roba arriva un john sei arriva la skin del cavaliere e arriva il joker tutti in versione dark veramente meraviglioso tornerà forse per l'ultima volta quindi un'occasione assolutamente per non farselo scappare insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao